Così si inaugura la sinodalità nella storia. La parola prende un volto. Dio si avvicina così tanto al suo popolo che toccando ed abbracciando la nostra carne diventa uno di noi, uno tra noi, uno con noi per camminare al nostro fianco, ascoltare le nostre gioie e le nostre speranze, le nostre tristezze e le nostre angosce e per esvelarci la bella notizia del suo amore e della sua salvezza che, forse nascosta, arde nel profondo di ogni cuore umano. Il Natale è questa buona nuova dell'Emmanuele, Dio con noi, Dio in mezzo all'umanità, la perenne novità del Dio che percorre e condivide il cammino insieme al suo popolo e alla sua intera creazione. Alla nostra cara Università Gregoriana, al corpo docente e amministrativo, a tutti i collaboratori e benefattori, ai nostri pregiati colleghi, studentese e studenti tutti, la comunità sacerdotale del Collegio Messicano vi augura con tutto il cuore un buon Natale. Feliz Navidad! Ericsit goes back no Store itali, vi augure un buon Natale a tutti i monti ièt modso attraversi il corso di gonzo in mezzo e il cuore un luogo perforo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.